Un elettromagnete in grado di bloccare i flussi di dati dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti con gravi conseguenze sulla sicurezza stradale e sul sistema economico. È una meticolosa indagine quella della Polizia Stradale coordinata dalla Procura della Repubblica nata dalla segnalazione di quattro autisti stranieri di aziende della logistica piacentina minacciati di licenziamento se non avessero accettato di falsare i sistemi di rilevazione. L'indagine si è avvalsa di dispositivi GPS posizionati sui camion che hanno rilevato la sistematica discrasia con quanto indicato dal cronotachigrafo. I dipendenti erano arrivati a lavorare anche 18 ore contro le 9 previste dalle norme di legge. La velocità superava anche i 110 quando il limite consentito ai mezzi è di 80 km orari. 11 capi di imputazione tra cui estorsione e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. In un caso la minaccia sarebbe stata anche a mano armata. L'impatto di questo fenomeno non è solo la messa in pericolo della sicurezza di chi lavora sulla strada ma è la destabilizzazione del sistema economico della logistica perché è evidente che imprese che operano in questo modo possono praticare politiche dei prezzi che spingono fuori dal mercato invece quanti vogliano applicare correttamente le normative vigenti. Questo strumento incideva non solo sul cronotachigrafo e quindi sulla registrazione dei tempi di guida e di riposo ma soprattutto anche sul limitatore della velocità, quindi avevamo delle velocità superiore a quelle consentite, sul freno motore necessario soprattutto lungo le discese che abbiamo per arrivare a Genova oppure dall'altra parte quindi sul tratto appennino che incideva anche sul sistema di frenatura normale dell'ABS e dell'EBS. Il fenomeno della calamita è un fenomeno diffuso un po' in tutta Italia quasi sempre però viene sanzionato a livello amministrativo e in questo caso si è potuto invece rilevare la sistematicità e contestare anche il dato penale. Il fenomeno secondo la Procura della Repubblica è molto più ampio e l'indagine ha riguardato anche altre aziende numerose le denunce di smarrimento dei dischi dei cronotachigrafi che avevano destato sospetti in passato tra gli inquirenti. Grazie. Grazie.